Francesco Totti e Ilari Blasi sono pronti a dire un nuovo sì. Dopo la fine del loro lungo matrimonio la decisione arriva inaspettata da parte di entrambi L'indiscrezione arriva dal settimanale nuovo, l'ex calciatore e la conduttrice hanno intenzione di chiudere al meglio le loro storie d'amore per poi intraprendere una nuova vita L'amore tra Francesco Totti e Ilari Blasi ha fatto sognare Roma e tutto il resto d'Italia Il loro matrimonio è stato il primo ad essere trasmesso in tv Per moltissimi anni i fan si sono appassionati al loro amore, fino a quando la favola non è finita e sono venuti fuori gli altarini Tra presunti tradimenti e dispetti reciproci, non hanno mai smesso di far parlare di sé Ilari Blasi ha anche fatto un documentario disponibile su Netflix in cui spiegava dettagliatamente la sua versione dei fatti e nega categoricamente di aver tradito l'ex marito con Cristiano Iovino Ha anche scritto un libro, che stupida, la mia verità.Proprio il personal trainer dei VIP sarebbe stato il motivo che avrebbe innescato la crisi matrimoniale, dopo che Totti aveva scoperto alcune chat sul telefono di Ilari La causa di separazione è in corso e una nuova udienza è prevista il 30 maggio Entrambi porteranno in aula le liste dei nuovi testimoni e le prossime udienze dovranno sancire la separazione e la divisione dei beni Francesco Totti e Ilari Blasi si risposano.L'ex bomber e la conduttrice hanno fatto presto a rifarsi una vita In questo momento lei è in Giappone insieme a Bastian Muller, il nuovo compagno tedesco al quale è sempre più legata Di Totti invece, si vocifera che stia per diventare papà, dopo che il settimanale Gente ha pubblicato le foto di Noemi Bocchi con un pancino sospetto Sembra ormai acclarato che entrambi sono pronti a un nuovo matrimonio con i rispettivi compagni, non appena il divorzio sarà sancito dal tribunale L'indiscrezione arriva dal settimanale nuovo, che scrive, appena avranno ottenuto la separazione e subito dopo il divorzio definitivo, Totti e Blasi intendono suggellare con sì l'amore per i rispettivi partner Da nessuno dei diretti interessati è arrivata conferma o smentita di un prossimo matrimonio, ma di recente Ilaria ha dichiarato, il matrimonio con Bastian? Non ho pregiudizi, dicono che il secondo sia anche più bello del primo Punto anche Noemi Bocchi sarebbe pronta al grande passo con il pupone e se le voci di una presunta gravidanza fossero confermate, forse loro potrebbero essere i primi a sposarsi